Mi chiamo Marta Estrada, ho 28 anni, sono nata e cresciuta a Madrid, ma attualmente vivo a New York e disegno scarpe. Io sono comoda con i tacchi alti. Si va a fare shopping. Sono fortunata, me ne rendo conto. Ho degli amici fantastici, viaggio molto e vivo nella più bella città del mondo. Uno dei miei negozi preferiti. A New York ci sono sempre degli eventi, sempre delle feste. Io sono instancabile, vado ovunque si organizzi qualcosa e mi adatto anche alle situazioni più diverse. Mi sta bene sia mangiare pizza che caviale. Non mi importa, mi so godere la vita. In qualunque situazione mi trovi, mi va bene tutto. Vivo libera, senza preoccupazioni. Faccio quello che mi pare. Mi va di allenarmi, di bere un drink, di andare alla session week di Parigi. Beh, ci vado.